Mercoledì 5 dicembre alle ore 11, presso la sede del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, alla presenza dei Ministri del MIUR, Marco Bussetti e dell'Ambiente della Tutela del Territorio del Mare Sergio Costa, avverrà la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regioni Campania, CONSAC, Gestioni Idriche S.P.A., Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni e Legambiente Campania, in occasione della quale sarà presentato il progetto Acqua sì, ma Plastic Free, mirante al corretto utilizzo dell'acqua potabile e dalla riduzione del consumo di plastica. Alla giornata prenderanno parte anche le rappresentanze di alcune scuole del territorio a sud della provincia di Salerno, a cui l'iniziativa è rivolta. CONSAC, Gestioni Idriche S.P.A., il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni e Legambiente Campania intendono infatti promuovere, per l'anno scolastico in corso e per le prossime annualità, questo importante e quanto ambizioso progetto di educazione ambientale, che ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Ministero dell'Ambiente della Regione Campania. Saranno coinvolte attivamente 13.000 alunni delle scuole e delle infanze primarie, a cui, nell'ambito di attività e percorsi didattici specifici, saranno distribuite altrettanti borracci in alluminio riutilizzabili. Si tratta di un'azione informativa massiccia e capillare, volta alla educazione e sensibilizzazione di un'ampia fascia della popolazione, che si stima porterà ad un abbattimento di 9,5 milioni di pezzi di plastica in tutto. Se si considerano anche i tappi risparmiati all'ambiente in un solo anno, nel territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alle fasi iniziali del progetto, seguirà la graduale installazione di erogatori di acqua potabile nelle scuole. Inoltre, all'interno delle scuole partecipanti, verranno effettuati dei prelievi di acqua dai rubinetti e di campioni saranno analizzati in laboratorio, in modo da certificare ulteriormente la qualità dell'acqua potabile distribuita ai bambini. Finalità prioritaria del progetto, acqua sì, ma plastic free, è quella di insegnare a vivere l'ambiente, come un'opportunità di crescita collettiva, in quanto risorsa impareggiabile da cui partire e da valorizzare.